nome del signore ciao ragazzi andiamo a scuola siamo il 26 settembre 2014 nome del padre del figlio dello spirito santo e 7.45 un po' tardi stare attenti che la strada è un po' bagnata non è così Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico, eterno riposo. Oh Signore, sento adesso, oggi lo rispetto, riposo in bacia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico. Nel nome del Padre, del Figlio e del Figlio, amico, eterno riposo. Nel nome del Padre, del Figlio, amico, eterno riposo. Nel nome del Padre, del Figlio e del Figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e del Figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e del Figlio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.